Questo pezzo è un pezzo nuovo di Persona Jones, parla di quelle situazioni, di quelle giornate da ricordare, si titola a Johnny. Non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo. Non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo. Non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo. Non c'è un pezzo nuovo. Mi guardo intorno, tutto è perfetto, e questo giorno non ha un difetto. Ci sono giorni feriti, altri da ricordare, giorni da non scordare mai. Ci sono giorni strani, altri dovi rimpiaggi, giorni da non scordare mai. Un leggero movimento a cacao, salto e salto a bersaggia. Ci sono giorni feriti, altri da ricordare, giorni da non scordare mai. Ci sono giorni strani, altri dovi rimpiaggi, giorni da non scordare mai. Non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo. Non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo, non c'è un pezzo nuovo. Grazie. Grazie. Grazie.